Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è venerdì 31 marzo 2023. Vediamo subito che si festeggia oggi con l'almanacco del giorno e vediamo che si festeggia San Beniamino. San Beniamino è vissuto in Persia intorno al V secolo, siamo nel 400. Fu martirizzato perché si rifiutò di adorare il Dio Sole. C'era ancora quel tempo la persecuzione nei confronti dei cristiani. Il re di Persia era veramente terribile nei confronti di chi non si assoggettava alla vecchia fede. Ebbene fu martirizzato, morì trapassato da spilloni. Veramente un martirio atroce a cui fu sottoposto San Beniamino, appunto poi santificato. Le previsioni del tempo. Vediamo la grafica sulle Marche. Un tempo stabile con qualche nuvolosità irregolare, spesso compatta qua e là nella regione. Le temperature massime si attestano sui 17 gradi, le minime sui 12. I venti sono moderati da sud-ovest per quanto riguarda le coste e da sud-est per quanto riguarda l'entroterra. Le temperature, come dicevo, sono in calo e da qualche parte, soprattutto verso il nord delle Marche, dai 17 si possono elevare anche a 21 gradi. Quindi la primavera si fa veramente sentire. Apriamo il giornale oggi a partire dal Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano. Eccola qua. Vediamo un servizio importante che viene erogato dagli ospedali di Pesaro e di Fano. Poi piano piano verrà esteso anche nell'entroterra. Scoprire il dolore nascosto. Questa è la mission del progetto DAMA. Ci sono delle persone che non riescono, pur doloranti, pur soffrendo per un dolore fisico, non riescono a esprimere, non riescono a interloquire, a parlare con il medico oppure con chi gli sta accanto e cerca appunto di curarlo. Che cosa accade? Accade che questi soffrano e spesso diventano poi insofferenti, diventano agitati, diventano anche tumultuosi. Ecco perché è stato predisposto un percorso particolare, individualizzato, da parte dell'azienda sanitaria territoriale, appunto del nostro territorio, per assistere queste persone. E sono i disabili, gli autistici, coloro che non hanno la possibilità di interloquire con chi sta loro accanto. Al Santa Croce, ma anche al San Salvatore, un percorso dedicato ad autistici e disabili gravi, incapaci di esprimersi. E questo è stato evidenziato ieri durante una conferenza stampa che si è svolta nella sala della direzione medica dell'ospedale Santa Croce con la presenza del commissario straordinario Gilberto Gentili e del sub-commissario Edoardo Berselli, oltre alle due dottoresse che si occupano di questa vicenda, di questo servizio. Un servizio che è accessibile tramite una telefonata al call center, raggiungibile al numero 0721 882 727, 882 727. Lo ripeto, 882 727. Le famiglie che hanno con loro una persona disabile, una persona che non ha la possibilità appunto di esprimersi compiutamente, appena avvertono qualcosa che non va, possono riferirsi a questo numero e accedere a questo servizio tutto particolare. Vediamo anche come il resto del Carlino tratta l'articolo. In ospedale, vie preferenziali per autistici e disabili. Il progetto presentato al Santa Croce prevede un triage che raccoglie le informazioni utili per l'organizzazione della risposta medica, quindi veramente un servizio importante. E vediamo gli altri articoli pubblicati dal Corriere Adriatico. A fondo pagina l'annuncio che domani mattina alle 8.30 verrà inaugurato il parcheggio di via Risorgimento. Suoniamo le campane. È un ritardo questo di tre mesi. Il progetto doveva essere finito, i lavori dovevano essere finiti entro il 31-12 dell'anno scorso. C'è stato un ritardo per alcune inadempienze della ditta. Finalmente però tutto si è risolto. Ed ora questi 88 posti, molto molto preziosi, perché poi sono gratuiti, a due passi dal centro storico, fanno anche riferimento al locale commissariato di polizia, al centro direzionale di via dell'Abbazia. Insomma un punto strategico tra l'immediata periferia e il centro storico. 88 parcheggi gratuiti, facilmente raggiungibile poi le altre zone della città. Dopo ritardi e rinvii domani si inaugura l'area vicino al centro e il taglio del nastro sarà operato sia dal sindaco Massimo Seri che dall'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, che ha seguito in modo particolare appunto i lavori. Regolarmento del verde, bocciato anche dalla lupus, mai coinvolti le associazioni ambientaliste, negati anche piccoli correttivi. Infatti sono state le associazioni ambientaliste che hanno ispirato quegli emendamenti proposti poi durante l'approvazione della delibera dell'approvazione del regolamento appunto del verde in Consiglio Comunale dal Movimento 5 Stelle. Di questi 15 emendamenti, ricordiamo, ne sono stati approvati soltanto due, mentre tutti gli altri sono stati respinti. E questo ha provocato la reazione appunto di lupus in favola che accusa la Giunta ancora una volta di aver fatto i conti per conto proprio senza alcun coinvolgimento. E poi ieri c'è stata un'altra conferenza stampa oltre a quella della presentazione del progetto Dama al Santa Croce e vediamo che si è svolta nella sede del liceo artistico Apolloni. Si tratta della collaborazione degli studenti del liceo Nolfi Apolloni al Festival Passaggi. Una collaborazione importante, hanno evidenziato sia il preside Samuele Giombi che il direttore del Festival Passaggi Giovanni Belfiori. C'era anche l'assessore Lucarelli, il presidente dell'Associazione Cesare Carnaroli e poi abbiamo anche Valentina Foschi che è l'insegnante che si occupa appunto della organizzazione, del coinvolgimento degli studenti durante il Festival. Il tutto nell'ambito del progetto Scuola Lavoro ma anche nell'ambito dell'orientamento scolastico per questi studenti. Coinvolgerli nel Festival Passaggi vuol dire metterli a contatto con il mondo dell'informazione, con il mondo dei social, con i diretti ospiti del Festival. Sono ospiti importanti, scrittori a livello nazionale. Tutto questo influisce nella formazione degli studenti, gli dà la possibilità di aprirsi ad un mondo che può dare loro una prospettiva di lavoro. Passaggi si apre alla formazione, uno stage per 33 studenti liceali, ufficializzato l'accordo per gli organizzatori del Festival e il Nofi a Polloni. Ed ora diamo un'occhiata anche ad un articolo di carattere politico. Una parte del Partito Democratico fanese è sorda all'effetto Schlein. Fumante chiede un confronto con l'area di Minardi. Della Dora nega la mancanza di dialogo. Ebbene, nel PD fanese, scrive oggi Osvaldo Scatassi, il percorso congressuale appare ancora incompleto, incompiuto, o almeno al giudizio di coloro che hanno tirato la volata vincente alla nuova segretaria nazionale Ellie Schlein. Ancora una volta si pone il tema della difficoltà nel dialogo e nel confronto tra due diverse anime che abitano nella stessa casa politica locale. Insomma, ancora c'è Maretta all'interno del Partito Democratico. E questo è da tenere bene in considerazione perché ormai siamo molto molto vicini alle prossime elezioni amministrative. Nel 2024 scade il quinquennato di Massimo Seri e quindi della coalizione che vede il centro-sinistra al governo della città e ora dovrà vedersela con il centro-destra. E sarà una competizione particolarmente interessante. Ma vediamo anche la pagina del resto del Carlino dedicata oggi, tutta la prima pagina, alla politica. E vediamo che c'è già un candidato sindaco. Chi è? È Samuele Mascherin. Mascherin è l'assessore ai servizi educativi e anche ad altre deleghe, quella delle biblioteche, insomma deleghe importanti. Mascherin nella mischia. Mi candido a sindaco, lo ha detto, e quindi c'è tra virgolette. Quindi è una candidatura chiara. L'assessore lancia le primarie di coalizione. Pronto a mettermi in gioco, ha detto. Se il centro-sinistra vuole battere le destre, serve un cammino condiviso. Ed ecco appunto la ricerca dell'unità, mentre da una parte si dice che nel PD ancora c'è contrasto. Ebbene, diamo un'occhiata a qualche risposta a questa intervista fatta a Samuele Mascherin da Anna Marchetti. Anna le dice, lei sarà tra i candidati sindaci con il sostegno e l'incoraggiamento, a volte anche inaspettato, di tante persone, ha detto Mascherin, che ho incontrato in questi anni di lavoro per la città, ho deciso di mettermi a disposizione e di candidarmi alle primarie, assumendomi la responsabilità di superare questa fase di mobilismo e di innescare un processo democratico a favore dei cittadini. Ma poi la giornalista incalza. La sua candidatura alle primarie del centro-sinistra non è una novità. Ha già partecipato a quelle del 2014. Questa volta entra in gioco per vincere. Allora Mascherin risponde. Allora, quando ci fu appunto questa prima candidatura, insieme a Massimo Seri e Stefano Marchigiani portammo ai gazebo 4.000 persone. Un risultato eccezionale che spinse il centro-sinistra a vincere le elezioni amministrative. Ci furono allora le primarie. Il mio obiettivo è attivare una nuova stagione di partecipazione per vincere le primarie 2023 e le amministrative del 2024. Quindi entro quest'anno dovrebbero svolgersi le primarie per evidenziare chi sarà veramente il candidato sindaco per il centro-sinistra nel prossimo anno e Mascherin appunto è tra questi. E qua anche ci abbiamo nell'articolo di spalla il sondaggio che una ditta sta facendo per quanto riguarda i prossimi candidati e si fanno altri nomi oltre a quello di Mascherin. Quello di Mascherin è certo, qua invece sono delle ipotesi. E vediamo chi sono i candidati sindaci per la città di Fano per i prossimi cinque anni. Abbiamo la consigliera regionale Marta Ruggeri e poi abbiamo anche l'assessore regionale Stefano Aguzzi che è di Forza Italia. Marta Ruggeri lo sappiamo è del Movimento 5 Stelle. Giuseppe De Leo, centrodestra e poi ci sono le new entry. Le new entry sono quelle di Cristian Fanesi che è l'attuale vice sindaco, Dimitri Tinti assessore al welfare di comunità, Sara Cucchiarini assessora al bilancio, Renato Claudio Minardi ex consigliere regionale e poi Samuele Mascherin. Non mancano Etienne Lucarelli assessore al turismo e Cora Fattori assessora alla cultura. Insomma, ci sono uomini e donne pronti a proporsi come candidati sindaci per il prossimo quinquennio. E torniamo ora al Corriere Adriatico. Passiamo alla Valmetauro, alla pagina della Valmetauro e vediamo una risposta dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Tiviroli sulla possibilità di desalinizare l'acqua del mare per renderla potabile. Una proposta che aveva fatto il geologo Baldelli. Desalinizare si può fare, ma ci sono pratiche migliori. L'amministratore delegato di Multiservizi replica Baldelli dei primi dubbi sulla sostenibilità sia per quanto riguarda il successo, ma dice sì, è possibile ovviamente, ormai la tecnica ha raggiunto questo traguardo, ma soprattutto la spesa per togliere il sale dall'acqua del mare. Una spesa ingente che forse non vale la pena sostenere, ci sono altri procedimenti. Comunque Tiviroli non si mostra contrario a questa pratica che viene suggerita appunto da Baldelli. Giriamo la pagina e passiamo alla Val Cesano, anzi fermiamoci a Pergola. Reti fognari e depuratori ok alle opere per 5 milioni di euro. Arrivano fondi, arrivano fondi anche nell'entroterra, per lavori urgenti nei comuni alluvionati del Pesarese. E sono risorse importanti perché danno la possibilità a questi territori di risorgere dopo la tremenda disgrazia che si è verificata nel settembre scorso. Urgenti, indifferibili e di pubblica utilità. I lavori al centro della conferenza dei servizi di ieri nella sede di Marche Multiservizi riguarda una prima transce di oltre 5 milioni per opere fondamentali come soprattutto le reti fognarie, i sottoservizi, i depuratori che garantiscano l'approvvigionamento dell'acqua idropotabile. La prima transce è di un valore complessivo di 5 milioni 148 mila euro riguarda opere di somma urgenza per il ripristino delle condotte fognarie a Cagli in via Buozzi a Cantiano delle vie Tumiati Molini e Fiorucci e in località Chiaserna e Fossato. A Pergola nelle vie di San Biangio Serralta e Belisio Solfare a Frontone in via della Fossetta e i lavori riguarderanno gli impianti di depurazione del capoluogo di Cantiano di Pergola e di Belisio Solfare insomma importanti opere di carattere idraulico. Ed ora diamo un'occhiata anche a Senigallia a Senigallia abbiamo il problema una vicenda di cronaca che tira in ballo uno stalker si tratta di Jürgen Mazzoni che è di nuovo in carcere perché perseguitava insomma il suo prossimo ti auguro l'HIV e che tu possa soffrire insomma una persecuzione che data da parecchio tempo e quindi qui c'è tutta la vicenda che riguarda questa persona e poi voglio parlarvi anche di un atto veramente inqualificabile gattini gattini abbandonati salvati da due ragazzini pensate una persona nei pressi di Senigallia nel territorio di Senigallia aveva messo quattro gattini dentro un secchio appeso ad un albero e se non fosse passato a nessuno queste povere bestiole nate da qualche ora sarebbero certamente morte per fortuna sono arrivati alcuni ragazzini hanno sentito i miagoli disperati di queste povere bestiole e le hanno salvate quattro cuccioli in un secchio appeso ad un albero in aperta campagna e beh non c'è mai limite alla puntini puntini di qualche gente di qualche persona pagina di Pesaro pagina di Pesaro vediamo subito un articolo che riguarda il turismo vediamo il turismo siamo nei pressi di Pasqua cominciano un po' cominciamo a respirare l'aria di qualche vacanza di qualche ponte piuttosto lungo e quindi anche di qualche gita fuori posta oppure di fare fuori porta oppure qualche turista che viene in avanza scoperta del nostro territorio hotel gioco di squadra arriva un parco solare con 1700 nuovi pannelli gli albergatori lavorano alla comunità energetica per ridurre le bollette si cerca un'area di 3500 metri quadrati su una superficie già edificata è un nuovo modo di alimentare le fonti energetiche abbiamo una modalità molto green e infatti questo costituisce un patto tra gli albergatori il patto green degli albergatori intitola appunto il giornale una decina di alberghi del lungomare diventa una comunità energetica per dare vita ad un'unica centrale elettrica da fonti rinnovabili ebbene l'unione fa la forza in questo caso un nuovo impianto per gli hotel green formato da 1700 pannelli fotovoltaici in un'area di 3500 metri quadrati sarà un parco solare da 500 kilowatt di potenza per una produzione annuale di 600.000 kilowatt allora veramente un complesso importante che dà un'alimentazione a costo più contenuto ma anche soprattutto un'alimentazione rinnovabile quindi con risparmio di CO2 ponente a fame di parcheggi l'idea è sfruttare il San Decenzio gli albergatori in cerca di altre aree sosta oltre al Santa Marta c'è bisogno di parcheggi chi è che non ha bisogno di parcheggi nelle città in questo periodo ebbene facilitare e migliorare la mobilità per accogliere i turisti che scelgono gli hotel delle lungomare di Levante e questo l'obiettivo degli olbergatori che cercano nuove aree per sistemare appunto le auto dei loro clienti parliamo ancora della capitale della cultura della capitale nazionale della cultura Pesaro per il prossimo anno presta moltissime iniziative e a sostegno di questo importante obiettivo ormai realizzato viene la Carifano scusate la Cari Pesaro la Cari Pesaro ho sbagliato Cari Pesaro viene la Cari Pesaro dalla fondazione un bando per 200 mila euro a sostegno dei progetti un finanziamento importante che concorre a tutte le forze economiche messe in campo per rilevare questo momento importante per la città di Pesaro per la sua economia per il suo turismo e per il suo livello culturale nell'ambito cittadino ed ora diamo notizia di qualche purtroppo di qualche incidente ma ce ne sono parecchi ce ne sono accaduti di gravi in questi ultimi tempi ebbene finisce con la sua motocicletta un Harley Davidson contro un albero morto un motociclista in via Gagarin il tragico schianto in serata di ieri grave poi una donna investita sulle strisce alla rotonda di largo tre martiri ebbene il primo incidente ha sbandato con la potente Harley Davidson in via Gagarin è una volta perso il controllo è finito contro uno degli alberi che ha delimitato la caleggiata uno schianto che non gli ha lasciato scampo il motociclista è morto sul colpo dopo essere volato in mezzo alla strada il corpo è finito sull'asfalto e nell'urto è rotolato anche il casco la vittima è un 39enne originario di Pesaro ma residente a Cattolica e poi vediamo il racconto drammatico di una quattordicenne che è stata molestata al mare e nel tribunale si è svolto l'incidente probatorio dopo la denuncia di questa ragazzina una studentessa di 14 anni che è stata che ha detto di essere stata molestata da un uomo che l'ha palpeggiata l'uomo si giustifica dicendo che ha scambiato la persona per un'altra per una sua amica e quindi è stato una così un incidente in realtà ovviamente dall'altra parte non sono di questa ipotesi l'accusato è un cinquantenne che ora ne deve rispondere davanti al giudice andiamo ancora sul corriere adriatico la pagina di Urbino eccola qua nella pagina di Urbino si parla di Ferminiano ringrazio il sindaco Feduzzi ma non accetto il suo invito a parlare così è la presidente dell'ente nazionale protezione animali LEMPA la quale accusa l'amministrazione comunale di seviziare le rane nel paglio della rana di Ferminiano una delle iniziative tradizionali storiche della città metaureense ringrazio il sindaco Feduzzi ma non accetto il suo invito il sindaco Feduzzi aveva chiesto di incontrare appunto la presidente dell'EMPA la quale protesta perché le rane che vengono usate durante il paglio possono soffrire appunto delle cadute delle rimesse nelle cariole e via dicendo e quindi protesta contro la realizzazione di questa manifestazione si tratta di Carla Rocchi la presidente la questione dice a noi interessa da dove arrivano le rane perché se non trovano le rane qui nel nostro circondario nel nostro territorio le fanno venire dall'estero addirittura le rane per partecipare al paglio di Ferminiano che dire ogni volta che si fa una manifestazione dove poi intervengono degli animali parliamo anche dell'affano dei Cesari con la corsa delle vighe dove gli ambientalisti sono intervenuti protestando contro l'utilizzo dei cavalli che possono magari farsi male durante la corsa in questo caso intervengono a favore delle rane per il paglio di Ferminiano vedremo come si comporterà l'amministrazione comunale ed ora continuiamo a leggere i giornali sfogliando il resto del Carlino abbiamo visto la prima pagina che parla di politica e vediamo ora quello che accade a San Costanzo un protocollo con la guardia di finanza contro i furbetti del sussidio il sindaco di San Costanzo ha firmato un protocollo vediamo qui il momento della firma per scoprire coloro che fanno delle false dichiarazioni per ottenere dei sussidi si sa come uno deve certificare l'ISEE come deve appunto mettere in chiaro qual è il suo reddito quali sono le sue condizioni economiche ma qualcuno è portato magari a calzare le mani e quindi c'è un patto con la guardia di finanza che può indagare sui documenti che vengono presentati e parliamo anche di guardia di finanza in modo così lato sulla pagina di Urbino l'ufficio tecnico del comune andrà all'ex agenzia delle entrate l'amministrazione acquisterà l'edificio e lo restaurerà e questa è l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 per quanto riguarda le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con il TG di Fano TV occhio alla notizia questo è tutto per il momento a risentirci